marone giusi marone mamma so chi lo possa solo non mi ha lasciato il patano non è sicuro sicuramente siciliano 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 ma perché ci sono le patate la terra no ma pure perché sai come si dice no è proprio è un pato proprio normale allo sto mangiando sta nonna te lo sicuro e chi ha fatto le patate da cugno con frutti ora nonna cosa ci stai preparando oggi ha detto un po' la viscagno e capito secondo me è il mamma vostro a tutte e due ma hanno bruciato lì che non può fuoco ci hanno calciato proprio no ma ti spiego i tempi antico quando è arrivato lì quando facevano un anno e mamme bruciavano un po' fuoco perché ti trova sempre al momento giusto e cosa buona eh eh che è anche capisci che è stato cuneo vabbè e nonna che ci stai preparando oggi che sei preparando vada qua chi è questo? un po' di gusto salame ma questo è veneroso non mettere le mani che stai venendo da fuori sono forte ma mi piace ma mi piace che palla fa? ma chi si fa degli anticorpi? ma siamo sempre cambiati a costruire per la città facciamo un cuore questo è rimasto, questo è peccato aspetta questa è peccolino benedì, mozzarella e questo è tenuto e questo ci ha già messo quel canne ma c'è tutto il patano sembra che in mano nonno, cosa ne facciamo di questa qua? questa bella puluzza ma che dà ci ha detto, questa patana ha sti fatendo quando hai il capapetto pronto non lo so 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 l'ho chiuso ci hanno messo un po' di olio d'oliva sopra ma sta giuendo ho messo un po' di olio in più perchè adesso che cosa succede? che il pane grattugiato se lo assorbe, vedi? e quando si coce viene una bella crosta croccante chiuso, che ciuo guarda, tenevi una cipigina e mozzarella amen e b? no 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 e perchè questa cosa? è più buono no e non si fa così il canne ci vuole troppo dire ma come si fa se ci mangiare crudo io non ci vuole dire perchè la patata è già cotta la patata è già cotta se ci mangiare crudo lo stesso? no hai già aspettato a forza aspetti 10 minuti mi piace o devi venire a casa amico? è normale e ora ti mangi un po' poi quando si cotta la patata è più buona tu dici mamma ci usciamo un po' nooo aspetta ma tu vuoi aspettare questa cosa che ti piace da mangiare? è normale a fare i cartoni tali sono grossi i malattini li provano a tutti e due ma vieni che sta bella vicina eh mentre qui c'è i cartoni mi lavano dei piatti ah ah pronto? si sono io uh wow grazie però non posso uscire io ma faccio uscire i miei nipoti eh eh va si sta venendo eccolo qua non pressionate per le corde ah 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 grazie perfetto grazie 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 E non voglio andare a stimare! chi si sa di spusare sarà dei! Doppia pazzione! Ah no? Cos'è la pelle di qui? Eh! Vai, vai! Due! Ma no! Ma, no! Non mi dirai che c'è chi ha la pelle di qui! Non c'è la pelle! Prima e che poi! Prese! Perfetto! Cos'è la pelle di qui? Tu puoi sbagliare! Facci la pelle di qui! Non mi ha fatto il tuo pacemolo! Non mi ha fatto il tuo pacemolo. Non mi ha fatto il tuo pacemolo! Giuro, promessa! Guarda qua, basta! Ma Mattino, che ho finito la fatta! Mattino! Mattino! Prego? E' giusto il direttore, ma... Saccugno! Saccugno! Arrivederci! Ci vediamo una mera! E' tutto saccato! Saccugno! E' a chi se ce l'ha muovato a mezzo? Ah! Boh! Se che mi scicchino in ragazionale... Sai cucinare? Vorresti diventare il protagonista su un video di FoodNapoli? Scrivici e noi... Veniamo a casa tua... A mangiare!